signore veniamo a te nel nome di Gesù Cristo e questa sera signore invochiamo signore il tuo spirito la tua grazia su di noi signore riempici signore affinché possiamo compiere l'adempimento signore della missione che tu ci hai affidato vogliamo presentarti questo incontro vogliamo pregare per tutti coloro che sono collegati signore sparsi in tutta Italia in Europa nel mondo in America in Sud America in Nord America in tutto il mondo signore benedici benedici metti la tua mano dai la tua rivelazione signore grazie nel nome di Gesù Cristo amè amè l'ode Gesù Cristo io questa sera è la terza volta della terza parte sulla guarigione e il titolo è abbi fede nel suo potere ecco l'importanza di accostarci alla presenza di Dio sapendo qual è la sua essenza e cosa lui può fare per noi abbiamo visto che Dio quando si presenta a Mosè in esodo gli dice io sono l'iddio che ti guarisce l'iddio che ti salve l'iddio che ti guarisce geofo a rafa cioè l'iddio guaritore noi per cultura c'è stato trasmesso soprattutto un Dio che salva ma nella stessa opera che lui ha compiuto sulla croce non solo egli ha pagato il prezzo per la salvezza ma ha pagato il prezzo anche per la nostra guarigione e il popolo ha bisogno il popolo di Dio ha bisogno di conoscere di accostarsi alla sua presenza avendo questa fede e quindi dobbiamo credere nel potere di Dio nel potere della guarigione e quindi dobbiamo accostarci sapendo che in lui c'è tutto il potere e c'è tutta la volontà e gli desidera in maniera forte e dentro di lui e dentro di lui questo desiderio di guarirci leggiamo in Matteo al capitolo 9 al versetto 20 ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni avvicinatasi da dietro gli toccò il lembo della veste perché diceva fra sé se riesco a toccare almeno la sua veste sarò guarita Gesù si voltò la vita e disse coraggio figliuola la tua fede ti ha guarita da quell'ora la donna fu guarita dal versetto 27 sempre capitolo 9 come Gesù partiva di là due ciechi lo seguirono dicendo ad alta voce abbi pietà di noi figlio di Davide qua voglio fare un inciso per la legge loro erano considerati degli impuri e e quindi avvicinarsi a chi rappresentava il signore era qualcosa di come dire dovevano vincere dovevano vincere dovevano vincere quello che erano le barriere culturali ecco quando noi leggiamo questi due ciechi qui ci lo seguirono noi immaginiamo in quei tempi quello che rappresentavano e qual era la circostanza e dissero ad alta voce abbi pietà di noi figlio di Davide quando egli fu entrato nella casa quei ciechi si avvicinarono a lui Gesù disse loro credete voi che io possa fare questo e se gli risposero sì signore allora toccò loro gli occhi dicendo vi sia fatto secondo la vostra fede e gli occhi loro furono aperti in questi due circostanze noi vediamo che noi ci dobbiamo accostare quella donna malata da di un flusso di sangue aveva fede si accostò alla persona di Gesù cioè aveva fede nella persona di Gesù è importante che noi come dire posizioniamo la nostra fede fede fiducia quindi dobbiamo come dire indirizzare la nostra fede polarizzare la nostra fede sulla persona di Gesù Gesù si voltò e le disse coraggio figliola la tua fede ti ha guarita poi dice la scrittura dice da quell'ora la donna fu guarita l'ode Gesù Cristo in ebrei 11 6 dice dice che senza fede è impossibile piacere a Dio c'è bisogno che noi crediamo e noi sappiamo che la fede viene alimentata dalla parola dalla predicazione dall' annunziare le opere di Dio le opere anche di guarigione c'è bisogno che noi riceviamo messaggi parole sulla guarigione c'è bisogno che noi conosciamo quanto Gesù ha compiuto e qual è il suo desiderio per noi a volte noi pensiamo che il Signore è così impegnato che non dice no ma io ho questo problema ho tutti i problemi che Dio ha vado pure io a presentargli i miei problemi la mia malattia dice la scrittura che egli andò in giro predicando guarendo tutte le malattie tutte le infermità l'ode Gesù Cristo io in questo questi due passi che abbiamo letto queste due vicende cosa vediamo vediamo la fede la fede che noi dobbiamo avere la fede della donna la fede di quei due ciechi che vinsero la donna vinse ogni circostanza tu immagina Gesù ero in mezzo alla folla e questa donna pensò diceva fra sé se riesco a toccare almeno la sua veste sarò guarito cioè il Signore sentì sentì la sua fede tu immagina una folla questa donna che vedeva Gesù magari c'era una calca attorno ma lei vinse dentro c'era il desiderio ecco se dentro di noi c'è il desiderio c'è questa fede una fede che la spinse a vincere ogni circostanza e lei ricevette remunerazione per quella fede ci mette la guarigione dice la tua fede ti ha guarito cioè indirizzare la nostra fiducia avere fede avere fede nella persona di Gesù ecco noi dobbiamo questo tempo che la pandemia ci ha costretti a rinchiuderci ci ha limitati in tante cose io ho visto che è stato anche un tempo buono per poter investigare le cose di Dio migliorare la relazione con Dio tutto sta nel rapporto che noi abbiamo con il Signore ecco investiamo il nostro tempo dedichiamo del tempo nel rapporto con Lui nell'ascoltare la predicazione nel leggere le scritture nel testimoniare nel pregare ecco tutto quel tempo che noi investiamo in Lui ci verrà ritornato nulla andrà perso anche se magari le circostanze ci fanno vedere che abbiamo subito delle perdite economiche io voglio anche consolare il nostro fratello Cataldo a volte umanamente noi combattiamo contro le forze della malvagità il nostro combattimento contro gli spiriti le autorità sono nell'aria e Dio ci ha dato la sua autorità per vincere l'ode Gesù Cristo poi vediamo questi due ciechi questi due ciechi anche loro dovettero vincere tante circostanze tu immagina quanti problemi hanno i ciechi oggi immaginiamoci duemila anni fa i problemi erano ancora di più amplificati erano come dire più forti la condizione negativa di menomazione era ancora più forte eppure loro gridarono ad alta voce vinsero ogni circostanza l'ode a Gesù Cristo gridarono ad alta voce a Gesù poi mi piace questa questa scrittura che dice come Gesù partiva di là due ciechi lo seguirono ma come fecero cioè guarda misero in atto tutto ciò che erano i propri sensi umani gli altri sensi per poter eseguire Gesù cioè se noi vogliamo quindi dipende da noi volere seguire il volere entrare nell'opera di Dio nella fede dipende da noi non dipende dalle come dire le circostanze questi due esempi ci fanno vedere che le circostanze non hanno vittoria se noi desideriamo e prendiamo una posizione per il Signore se chiediamo qualcosa che a Dio piace che Dio vuole e che è nel suo potere e glielo vuole compiere la guarigione è nel potere di Dio e nella volontà di Dio non potevano ottenere risposta se non era nella volontà di Dio quindi noi vediamo il principio che Gesù dice il principio c'è un principio dice la tua fede ti ha dato ti ha dato la guarigione cioè è la nostra fede che ci fa ottenere per fede in Matteo 21 versetto 22 scritto così tutte le cose che domanderete in preghiera se avete fede le otterrete rileggiamo tutte le cose che domanderete in preghiera se avete fede le otterrete come dire Dio aspetta che noi chiediamo c'è un altro passo che dice chiedete e vi sarà dato e quando ascolto questo sembra che a volte noi nei nostri bisogni non chiediamo è come che se l'uomo è nel bisogno e non chiede le circostanze lo frenano le posizioni spirituali lo frenano ecco noi dobbiamo vincere ogni circostanza ogni forza spirituale che ci vuole impedire di chiedere che Dio aspetta che noi chiediamo la guarigione io voglio dare speranza a chi desidera guarigione da parte di Dio noi non stiamo predicando una nuova dottrina Gesù ha compiuto la salvezza e ha compiuto la guarigione dice dovunque andava egli predicava il regno guarendo ogni malattia ogni infermità l'ode Gesù Cristo dobbiamo credere nella sua parola la guarigione divina è chiamata la guarigione della fede io ricordo io ho visto come Dio ha iniziato a operare nelle anime il pastore pregava per i bisogni per coloro che si presentavano per coloro che chiedevano era una predicazione semplice sulla guarigione e ho visto come chi si accostava con una fede come dire pura semplice sapendo che Dio guarisce e quelle anime che si accostavano con questa fede ricevevano guarigione io ho capito subito qual era la chiave la fede è la chiave per ottenere guarigione c'è la fiducia accostarci a lui sapendo che egli lo desidera che egli lo può fare che in lui abita tutto il potere quando torno e ricordo io nella prima puntata ho raccontato una testimonianza della guarigione di mia moglie lei era sterile non poteva avere figli ma la nostra preghiera era Signore è nella tua volontà Signore sia fatta la tua volontà e abbiamo visto che la volontà di Dio è di guarire e di benedire di attivare di dare vita leggiamo in Matteo al capitolo 12 versetto 10 e 13 ed ecco dice c'era un uomo che aveva una mano paralizzata allora essi per poterlo accusare feceva Gesù questa domanda è lecito fare guarigioni in giorno di sabato versetto 13 allora disse a quell'uomo stendi la mano e gliela stese e la mano ritornò sana come l'altra qua vediamo un'altra circostanza Dio ci chiede di mostrare la fede in questa circostanza il Signore chiede a questo uomo di mostrare la sua fede stendendo la sua mano e gli chiede stende la tua mano allunga la tua mano abbiamo una mano paralizzata quindi a volte ci chiede di mostrare la fede io mi ricordo Gabriella quando iniziò quando Dio ci parlò di guarigione e lei iniziò a fare un corredino e questo corredino questi acquisti durarono sei mesi ha mostrato la sua fede e a volte c'è bisogno Dio ci chiede di mostrare la nostra fede l'Ode Gesù Cristo leggiamo Atti 3 versetto 16 la mia traduzione della versione amplificata dice per la fede nel nome di Gesù che quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato è il nome di Gesù è la fede che viene attraverso di lui che gli ha data la completa guarigione delle sue membre in presenza di tutti voi stiamo parlando di quel uomo che era paralizzato sin dalla nascita qua dice che la guarigione è per fede nel suo nome non per fede nella fede a volte io ho visto che molti cristiani hanno male indirizzato la loro fede hanno indirizzato la loro fede sulla fede noi dobbiamo indirizzare la fede nella persona di Gesù qua dice è per la fede nel nome di Gesù e poi dice è nel nome di Gesù è la fede che viene attraverso di lui gli ha dato la completa guarigione dice che voi vedete voi siete testimoni della sua guarigione non dobbiamo cercare formule scritturali e usare le scritture come formule per la guarigione ma dobbiamo conoscere perché Dio ci vuole rivelare che egli guarisce noi dobbiamo avere fede per la guarigione cioè fiducia per ottenere guarigione perché nella sua persona c'è già la guarigione e gli desidera guarire quindi non è una dottrina della guarigione ma credere in Gesù Cristo accettare Gesù nella propria vita è proprio lui è la persona è l'oggetto l'Apostolo Pietro capì che l'oggetto della fede della nostra fede è Gesù e disse ai suoi ascoltatori come l'uomo zoppo era stato guarito dice è per fede nel nome di Gesù Pietro spiega che non è per altro motivo è per la fede nel nome di Gesù è il nome di Gesù ed è la fede che viene attraverso di lui l'odo è Gesù Cristo a volte noi dobbiamo forse come bisogno dovremo avere bisogno di camminare un po' per fede per arrivare alla guarigione a volte Dio ci chiede di camminare nella fede e voglio prendere un versetto per spiegare meglio le cose Luca 17 versetto 12 e mentre entrava in un villaggio gli venne un incontro dieci uomini lebrosi i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo Gesù maestro abbi pietà di noi veduteli e gli disse loro andate a mostrarvi ai sacerdoti e mentre andavano furono purificati stasera stiamo esaminando le circostanze della fede in questa circostanza noi vediamo che a volte Dio ci chiede di camminare per fede di attuare la fede qua vediamo che non sono stati guariti subito questo versetto è molto rassicurante non sono stati guariti nel momento della preghiera ma sono stati guariti mentre andavano così dice la scrittura dice mentre andavano furono purificati l'ode Gesù Cristo quindi mostrare la fede e ubbidire a Gesù una fede che mostra un'ubbidienza un camminare secondo la fede significa avere una fiducia tale da fare da compiere io immagino quei lebrosi anche là c'era fede ma Gesù li mise sotto come dire ubbidienza dovevano accettare la parola dovevano sottomettersi alla parola e dovevano mostrare che credevano quindi ci sono circostanze per cui noi dobbiamo camminare un po' nella fede a volte noi dobbiamo mostrare con le nostre azioni che crediamo che abbiamo creduto quindi dobbiamo essere disposti a camminare nella fede a camminare in ciò in cui noi chiediamo al Signore e quindi senza cadere nello scoraggiamento perché non vediamo subito la guarigione ma dobbiamo vincere sempre qua le circostanze rompere le circostanze naturali e camminare per fede significa compiere il sovrannaturale poi un'altra cosa un'altra circostanza se abbiamo tempo ne parliamo dice non pregare e poi dubitare in Giacomo è scritto al capitolo 1 versetto 6 7 dice quando chiedi devi credere e non dubitare perché chi dubita è come un'onda di mare soffiata e gettata dal vento quell'uomo non dovrebbe pensare di ricevere nulla dal Signore lode Gesù Cristo quando noi chiediamo a Dio di guarire non dobbiamo dubitare non dubitare quando chiedi al Signore non dubitare non vacillare credi a Dio perché a Lui tutto è possibile non è un uomo Dio non è un uomo Egli è l'onnipotente è il creatore delle cose visibili ed invisibili in Lui abita tutto il potere ecco noi dobbiamo avere questa fiducia non è una persona qualunque stiamo parlando di Dio è Lui che guarisce e dobbiamo sapere che è nella sua volontà lode Gesù Cristo quindi non preghiamo e dubitiamo ma preghiamo e abbiamo fede dice quando chiedi abbi fede abbi fede che Gli ha il potere di guarire e rifiutiamo ogni dubbio dobbiamo rifiutare il dubbio il dubbio via rifiuti il dubbio rifiuti ogni pensiero che ti porta nel dubbio lode Gesù Cristo sapendo questo che la sua parola è verità egli è verità non è menzogna è verità quindi se egli è verità tutti i dubbi devono andare via via nel nome di Gesù Cristo ora vediamo come continuare a ottenere la corrigione Giovanni capitolo 4 versetto 49 e 51 l'ufficiale del re gli disse signore scendi prima che il mio bambino muoia Gesù gli disse vai tuo figlio vive quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò e mentre già stava scendendo i suoi servi gli andarono incontro gli dissero che suo figlio viveva qua vediamo una corrigione a distanza Dio opera anche a distanza non c'è questa sera opera in tutti i luoghi in tutta la terra dovunque tu sei se tu ora gli chiedi la corrigione per il tuo problema per la tua malattia se tu gli chiedi di essere vibrato lui ora lo fa egli è l'onniprosente egli onnisciente ogni presente solo lui solo in lui abita questo potere Gesù disse quella parola tuo figlio vive e quell'uomo accettò quella parola la fede in quella parola quando ti viene pronunziata c'è una fede che deriva di legarsi a una parola di guarigione se ti viene se ti viene data una parola ecco l'importanza di pronunziare di predicare di annunziare la guarigione perché in questo caso quell'uomo quell'ufficiale del re si aggrappò a quella parola di Gesù alla parola di Gesù che gli aveva detto tuo figlio vive l'uomo credette a quella parola noi abbiamo bisogno di legarci alla parola alla promessa a ciò che ci viene detto nel suo nome ci viene annunziato nel suo nome e mentre era tornata a casa per trovare il suo figlio vide che viveva l'uomo di Gesù Cristo leggiamo in atti 9 versetto 33 e 34 la trovò un uomo di nome Enea che da 8 anni giaceva paralitico in un letto Pietro gli disse Enea Gesù Cristo ti guarisce alzati e rifatti il letto ed egli subito si alzò vediamo anche qui che una guarigione viene attraverso la parola pronunziata una parola di fede dichiarata l'oda Gesù Cristo l'apostolo Pietro pronunzia la parola dice a Enea Gesù Cristo ti guarisce l'oda Gesù Cristo dice il miracolo avviene subito in maniera immediata noi dobbiamo dire ai malati Gesù Cristo ti guarisce come l'apostolo Pietro dobbiamo avere il coraggio della fede l'ardire della fede Dio guarisce alleluia uno non si deve scusare non deve avere timore di pronunziare questa dichiarazione non dobbiamo agire con il dubbio ma con fede con certezza perché è Gesù che guarisce non siamo noi che dobbiamo guarire è Gesù Cristo che guarisce è Lui che ha promesso la guarigione è Lui che ha pagato il prezzo per la guarigione è Lui che ha pagato il prezzo per la salvezza l'oda Gesù Cristo quindi l'oda Gesù Cristo cari fratelli care sorelle che state ascoltando io spero di avervi come dire spronato avervi dato come dire uno stimolo a chiedere al Signore a avvicinarsi a Lui con fede sapendo che è Lui che guarisce in Lui c'è la volontà di guarire che a volte dobbiamo camminare per fede di avere fede nella sua persona a volte dobbiamo mostrare la fede con le nostre azioni e a volte Dio opera attraverso la parola predicata annunziata Dio compie e il compitore la cosa è certa e in Cristo c'è tutto il potere c'è il potere della vita il potere della guarigione l'Ode Gesù Cristo voglio concludere con una preghiera ringraziamo il Signore abbiamo ascoltato la preghiera del pastore Paolino del pastore Cataldo Signore vogliamo pregare insieme per tutti coloro che sono collegati e coloro che ascoltano Signore io ti voglio pregare Signore noi sappiamo che in Te Signore c'è tutto il potere ti voglio pregare Signore per tutti i fratelli tutte le sorelle metti la Tua mano la Tua benedizione difendi Signore l'opera Tua Signore fai crescere fai crescere nello zelo stimola Signore a vivere Signore nella fede nella santità e a chiedere a Te tutti coloro Signore che si sono accostati a Te Signore Tu non li hai mandati indietro io ti chiedo Signore rispondi alle preghiere che questa sera che in questo momento tutti i fratelli e sorelle ti stanno facendo Signore Padre te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo Amén Amén